Come aggiornare completamente i driver sulla scheda grafica 30 e 70? Ovviamente se avete cambiato la vostra scheda grafica vi consiglio prima di rimuovere del tutto i driver vecchi della vecchia scheda grafica. Quindi andando su installazione applicazioni vai a scrivere qua sopra Nvidia. Vai direttamente su driver grafico, tre puntini, disinstalla, cerca di rimuovere tutti i driver vecchi della vecchia scheda grafica e poi una volta fatto ti dirà di riavviare il sistema. Poi una volta fatto andiamo direttamente sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione per aggiornare così i driver della tua scheda. Ovviamente vado a mettere GeForce serie 30, 30 e 70 Windows 11 italiano e faccio trova. Ed eccolo qua. Ovviamente visto che noi useremo la nostra scheda grafica per giocare andiamo a scaricare Driver GeForce Game Ready. Andiamo così a vederlo e poi download. Scarichi così il software di 691 MB. Io ho risolto così i miei problemi di driver sulla mia scheda grafica su questo sito qua e ho fatto subito. Una volta fatto questo qua è il driver e segui come amministratore e facciamo sì. Estrae tutti i pacchetti. Ed eccolo qua ovviamente. Vai ad accettare così il contratto, un contratto di licenza e su opzioni invece ti consiglio di mettere l'installazione personalizzata e di mettere una pulizia completa. Così facendo farà una pulizia proprio completa sul tuo computer e così facendo potrai installare tutti i driver della tua scheda grafica 30, 70 oppure una scheda grafica serie 3000. Inoltre scaricato e installato ti dirà di riavviare il sistema. Quindi vai a riavviare il tuo sistema operativo. Hai fatto e questo qua lo puoi anche cancellare. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.